Sconfitta di misura per il Barano che si arrende 2-1 al comunale di Ottaviano al cospetto della più quotata Virtus San Gennarello. Esordio amaro per Mr. Flavio Leo sulla panchina degli Aquilotti, che partono meglio degli avversari ma vanno sotto per un rigore dubbio concesso a pochi minuti dalla fine del primo tempo. Nella ripresa i padroni di casa trovano il raddoppio e il Barano perde campo, prima di un finale in crescendo in cui arriva il gol della bandiera di Muscarello. Il primo squilo del match dopo soli 3 minuti sugli sviluppi di una punizione dalla tre quarti di Conte, con l'incornata di Dilustro che finisce abbondantemente fuori misura. Al settimo ci prova di testa sul lato opposto anche a Vino, ma manda al lato, e pochi secondi dopo il Barano rischia perdendo una palla banale che Gargiulo non riesce a concretizzare. Doppia chance per gli ospiti a cavallo del quarto d'ora. Lo schema su punizione porta al tiro a Vernini, che non colpisce bene. Due minuti più tardi, ancora al centramati degli Aquilotti, va in slalom con Dilustro e si presenta in area di rigore, ma sul più bello spedisce fuori clamorosamente. E' la più ghiotta occasione per gli isolani, che ci riprovano al 27esimo. Conte calcia a giro su punizione, la palla non si abbassa abbastanza e finisce sopra la traversa. Immediato il ribaltamento di fronte, con la giocata individuale d'Italia bravo a liberarsi in area, però il tiro coglie solo l'esterno della rete. Si accende il 10 della Virtus, che alla mezz'ora ci prova dalla distanza, trovando la comoda parata di Delicato. Prende l'intervallo arriva l'episodio, che di fatto cambia la storia del match. Al 44esimo Gargiulo scappa alle spalle della difesa e viene atterrato in area di rigore da Buono. Pochi dubbi sul fallo del difensore che viene ammonito, più di una perplessità sulla posizione di partenza dell'attaccante del Sangennarello, decisamente al limite del fuorigioco. La bandiera del guardaline però non si alza e dal dischetto Sorrentino supera Delicato. Ancora uno schema su calcio piazzato porta al tiro De Luise in avvio di ripresa, ma all'esterno del Barano si coordina male e calcia peggio, pallone alle stelle. Due minuti più tardi Talia semina il panico in area avversaria e guadagna un corner su cui sviluppi Michele Sepe e sfiora il raddoppio. Sarà questa solo la prima di varie occasioni che precedono il 2-0 del Sangennarello. Al minuto 53 Vittorio Sepe lancia Talia che viene fermato alla provvidenziale uscita di Delicato. Un vero e proprio duello, quello innescato tra il portiere e l'attaccante. Delicato para sul 10 altre tre volte, ma poi alla fine è costretto a capitolare. Al settantesimo Vittorio Sepe si accorge di una difesa distratta e imbuca per Talia che sotto a porta non può sbagliare. Sotto di due gol il Barano si scuote e chiude con orgoglio. All'ottantaseesimo Inverni di testa non c'entra lo specchio, così al novantunesimo il gol lo trova il neo entrato Muscariello, che incorna su cross dalla sinistra battendo Rastrello, il quale para anche la conclusione dell'attaccante, ma solo quando la palla ha già oltrepassato interamente la linea di porta. Finisce così con un gol inutile ai fini del risultato finale per il Barano, che non riesce a creare pericoli nei restanti 5 minuti di recupero. Per la banda isolana arriva dunque un altro KO, ma non mancano dei segnali positivi. Nelle quattro giornate che restano al termine del campionato di promozione, si può ancora guardare con fiducia all'obiettivo della salvezza diretta.